Un presunto traffico di migranti con un'organizzazione criminale operante tra Bari, Catania e Salerno, un triangolo di venditori di uomini scoperto dalla Direzione Distrettuale Antimafia e dalla Procura di Bari, 15 le ordinanze cautelari emesse a carico di altrettanti cittadini di nazionalità somala, di cui 11 in carcere e 4 i domiciliari accusati di associazione per delinquere, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina a scopo di lucro, falso e corruzione, almeno due le persone che sono sfuggite alla cattura. Attraverso money transfer e social network e facendo ricorso a canali ben collaudati, i trafficanti intascavano somme da parte delle famiglie dei migranti somali, con l'impegno ad organizzare viaggi verso l'Europa. L'Italia era il più delle volte una tappa per destinazioni che si rivolgevano poi verso altri paesi, dalla Germania alla Francia, passando per la Scandinavia. Non solo trafficanti d'uomini però. Nel corso delle indagini, infatti, la polizia ha smascherato anche contatti con alcuni intermediari, anch'essi somali, considerati parte integrante del gruppo terroristico filo-jiadista Al-Shabaab, in particolare con un africano già fermato nel luglio dello scorso anno per aver introdotto in Italia, via Malta, due combattenti stranieri dell'Isis. A capo del sodalizio un 33enne, gestore di due internet point, che sarebbero la base logistica ed operativa del gruppo e che sono stati sequestrati. Tra gli indagati anche un impiegato del comune di Bari, che avrebbe attestato false residenze nel capoluogo dietro pagamento di somme di denaro. A Salerno è la squadra mobile che sta eseguendo verifiche stringenti. La città in meno di un mese ha ospitato due sbarchi. Verificate le posizioni di diversi stranieri sospettati di essere scafisti o comunque di aver avuto un ruolo nell'organizzazione del viaggio dei disperati dall'Africa verso l'Italia.